Indirizzare i più piccoli verso una consapevole alimentazione utilizzando uno strumento interattivo che insegna attraverso il divertimento. Foodieland impariamo a mangiare giocando, un media book in cui il testo scritto è affiancato da audio, video, immagini e verifiche volte a stimolare l'apprendimento. E' questo lo strumento che nasce da un'idea della fondazione Giulio Loretti Onlus impegnata in una più ampia attività di lotta all'obesità e al diabete di tipo 2. Il diabete di tipo 2 viene soprattutto da sovrappeso e dall'obesità. In Umbria in particolare abbiamo circa il 24% dei bambini dagli 8 anni in su che sono in sovrappeso e ben l'11% obesi. Quindi abbiamo pensato di fare questo strumento che si può essere utilizzato anche nelle scuole quindi dai docenti o a casa sempre magari un genitore con un bambino possono giocare insieme in modo che il bambino possa apprendere come utilizzare il cibo, come nutrirsi. Un lavoro che ha visto la collaborazione di Core Book, Idea Animation e del Centro Universitario Ricerca Interdipartimentale Attività Motore a Curiamo di cui fanno parte le ideatrici dei contenuti del Media Book. Abbiamo dato il nostro supporto offrendo alla fondazione Loretti due professioniste che sono poi le autrici del Media Book che si erano formate da noi e quindi poi grazie anche a questa esperienza formativa universitaria hanno potuto dare il meglio di sé in questa attività. Dalla nostra esperienza ormai abbiamo visto che fornire delle semplici informazioni inerenti alla corretta alimentazione non sortisce alcun effetto soprattutto nelle fasce di età più giovani, quindi nei bambini. Il libro multimediale è strutturato in più unità, il bambino dovrà cimentarsi in vari ambienti proposti, sempre sotto forma quindi di cartone animato ci sarà quindi un supermercato, un posto quindi che è la casa e la fattoria. Verrà facilitato quello che è l'apprendimento di alcune nozioni fondamentali inerenti alla corretta alimentazione, quindi i principi nutritivi e il loro ruolo nell'organismo l'importanza di saper conoscere gli ingredienti presenti in un alimento saper leggere un'etichetta alimentare, quindi un'etichetta nutrizionale sapere la stagionalità dei prodotti che comunemente vengono consumati da dove proviene quindi l'origine del prodotto e del cibo consumato. Grazie.